Nemmeno tre mesi, e anche in Italia, il primo candidato vaccino anti-covid-19 potrà essere sperimentato sull'uomo. In luglio almeno 20 volontari sani, tutti giovani e adulti, potranno partecipare alla prima fase dei test del vaccino progettato dalla Reetera, nel polo tecnologico di Pomezia, e il cui sviluppo è condotto in collaborazione con l'azienda tedesca Leucocare e la belga Universe Health, nell'ambito del consorzio europeo che hanno appena costituito. La corsa al vaccino non accolto di sorpresa, era noto che sarebbero emersi nuovi patogeni con un potenziale pandemico e stavamo lavorando a una tecnologia che permettesse di dare risposte rapide, ha detto Stefano Colloca, fondatore dell'azienda di Pomezia con Antonella Fogoli. Ci siamo trovati, ha osservato, ad accelerare una procedura di produzione che ci permetterà di affrontare una prossima crisi in modo più efficiente. Pensiamo di poter rilasciare il primo lotto a metà giugno e riteniamo di riuscire a iniettare il vaccino nel primo soggetto a metà luglio. Ha proseguito. L'azienda ha avuto con l'Istituto Superiore di Sanità un incontro preliminare, cui seguirà un incontro organizzativo in vista del test di fase 1, ossia la prima fase delle tre previste in ogni sperimentazione clinica per avere risposte sulla sicurezza. In questa prima fase si prevede di somministrare il candidato vaccino a 20 volontari, ma il loro numero potrebbe anche aumentare.